Ciao amici come state? Spero tutto bene! Oggi torniamo su The Theft Wars in questa sorta di GTA senza senso cartonesco per telefono Oggi siamo qua perchè finalmente col nuovo aggiornamento potremmo evocare gli alieni Andiamo a scoprire insieme come fare ma mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like, più like possibili per supportare la serie Se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivete al canale, attivate la campanellina Volevo pure ringraziare Bartosz Wojnarowski, spero di averlo pronunciato bene, per aver fatto l'abbonamento al canale Grazie mille davvero tanto per esserti abbonato, ma adesso andiamo subito in partita e cominciamo perchè non vedo l'ora di vedere insieme gli alieni Facciamo qua single players, da volte vi ci direi di fare con Jack perchè voglio pure farvi vedere la nuova casa che è stata messa col nuovo aggiornamento Ci hanno pure cambiato la casa di Jack, ma che roba! In realtà ve l'avevo mostrata nel video sul terzo canale, sul canale plus Però molti tipi si sono persi quei video, quindi ve lo faccio vedere qua Buonasera, rieccoci qua, rieccoci qui su Duteft Wars, guardate qui la postazione No vabbè, ma quanti monitor ha questo? Ma manco dovesse fare lo streamer, lo youtuber E mi sa che forse vuole fare lo streamer youtuber, ma da quando? Qui c'è pure il letto per dormire, che è sta cosa sul letto? Ah, tipo una sorta di cappello bianco che praticamente fa pandan con le coperte Va bene, vediamo le altre stanze Ula la, guardate che grande cucina che c'è Ma cosa? Ma ci sono le ciotole per i cani? Ma io non ho nessun cane, non ci sono cani qua Cos'è sta roba? 1145 Che è un nuovo cit, un nuovo codice Vabbè, non facciamoci domande Prepariamoci da mangiare che non posso neanche preparare Ho una cucina e non posso utilizzarla Ditemi voi se è normale Uh, adesso guardate, c'è l'ingresso diretto al garage Che prima si trovava di qua Si trovava da questo lato Adesso invece l'hanno spostato dall'altro lato Spettacolare, bello, ma non è bello il fatto che la moto si muova per i fatti su Ma dove te ne vai moto? Ma cosa? Ma una moto fantasma? No, a parte scherzi, dove te ne vai moto? Su Non andare via, su, e che roba, e che roba Se ne stava andando via Che è la moto che se ne scappa via da sola Allora aspettate, va Non voglio perderla sta moto Quindi la rimetto qui nel garage con la speranza che nessuno se la venga a prendere Perfetto, via, moto Resta lì ferma e non resta di là Non ci resta Innanzitutto prendiamo questa macchina Che è praticamente un nuovo veicolo Guardate bene una cosa L'ho già fatta vedere meglio nei video scorsi Però adesso la vediamo proprio nel dettaglio I vetri sono trasparenti C'è qui, c'è proprio la trasparenza del vetro Bella sta cosa qua Spettacolare Via di corsa Muoviamoci Andiamo a vedere innanzitutto dove si trova un alieno per la prima volta Dove lo troviamo No, 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 no I pedoni che spawnano nel nulla Di là, via, via, via Su, su, vedi qua personaggio Muoviti, muoviti, muoviti Noi già troviamo una sorta di alieno Qui all'interno di questa fattoria La fattoria strana Dove ci sono pure la zona degli esperimenti Questi ponti però, veramente Li devono sistemare Sti ponti non li ho mai sopportati Che mi fanno sempre sbandare la macchina Qui da queste parti dovrebbe trovarsi un UFO Eccolo là, l'UFO Caro UFO, dove te ne vai? Dove te ne vai? Scendi qua dalla macchina Perfetto Sì Abbiamo rubato l'UFO Lo abbiamo rubato Sali, sali, sali Perfetto Via, via, via Mi ricordo che avevo fatto pure una miniserie di Duteft Wars Dove prendevo questi veicoli particolari E li portavo a vendere No, 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 no Vai, vai, via, 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 via Andiamo, andiamo, andiamo Non riesco più a muovermi Ah, perché l'ho abbassato Giustamente Io come un buon panino impaninato Cosa faccio? I mezzi volanti li tengo abbassati Ma perché? Adesso, andiamo Allora, su Vedi di non schiantarti Vedi di non schiantarti Ma dai, su Muoviamoci Che abbiamo tutto sto tempo da perdere Mamma mia L'UFO più squilibrato del mondo Soltanto io ce l'ho Soltanto io qua all'interno di sto gioco Su, muoviti Dai, dobbiamo raggiungere l'area 51 Si trova dall'altra parte della mappa Di sto passo ci arriviamo l'anno prossimo Non ci arriviamo più Mamma mia però, eh Mamma mia, mamma mia A proposito di area 51 Voglio vedere qua dalla mappa Se hanno aggiunto qualcosa di nuovo Qualche nuova isola No Però Guardate bene una cosa La mappa è più definita adesso Molto, molto più nitida Bella sta cosa qua Tra l'altro adesso si vedono pure Gli UFO dove si trovano qui Quindi direi subito di raggiungere gli altri UFO Andiamo a raggiungere gli UFO che sono atterrate Li raggiungeremo l'anno prossimo Se sto coso non si dà Ma dai Dai che ce la fai E che roba E che roba Andiamo di qua va Seguiamo la freccia che è coperta dall'UFO C'era l'UFO davanti Non mi faccio vedere la freccia Su Ma come ti muovi Ma cosa ci sta dentro qua Sti UFO Cosa ci hanno messo la benzina Non ci hanno messo la benzina Ci hanno messo altra roba che si beva A quanto pare Ma dai Su Sì vabbè Ma è incontrollabile È incontrollabile Su Me ne esco fuori A costo di prendermi pure il danno E se no qua non ci arriviamo più Ci devo andare dritto Sto UFO cosa fa Si muove lateralmente E cade pure Cade pure Via 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 Adesso direi allora di prendere un'automobile Con l'automobile Anche se non sono tanto controllabile in questo gioco Vediamo Vediamo cosa si riesce a fare Tra l'altro dove posso trovarla qua No andate via automobile Non andate via 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 Metto lo slow motion No Dai su Una macchina qui dal nulla Qualcuno che mi dia un veicolo per potermi muovere Se no qua veramente faccio notte Per colpa di un UFO che non si voleva muovere come si doveva Cioè io devo andare dritto Sto coso cosa fa lateralmente Ma ditemi un po' Oh C'è il negozio di No non è il negozio di auto quello Oh qui c'è una macchina C'è una macchina Fermati 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 Dai Ma si può perdere tempo così Perché ho preso un mezzo sbagliato Eh vabbè Quando si deve si deve Mettiamo qua il dude bolt Se no ci mettiamo l'anno prossimo qua Ok dude bolt Se no qua ci mettiamo l'anno prossimo E ditemi un po' Per colpa delle macchine Che quando servono non ci sono Quando non servono li trovo ovunque Pure dietro l'angolo Pure sotto la mia scrivania Mi compaiono un momento Quando mi servono invece Spariscono nel nulla Ma dai E che roba Voglio raggiungere l'area 51 Per poter evocare l'insieme a voi Gli alieni Perfetto Prendiamo la macchinina Grazie mille amichetto Me ne vado via 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 da nessuna parte No Si è buggata la macchina Non ci credo Non ci credo Ma cos'è Ma ditemi un po' Tra l'altro Aspettate ma che Che motore ha sta macchina Hanno pure cambiato i rumori De motore A quanto pare Bella sta cosa Via 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 Allora io direi di prendere La scorciatoia Passando di qua Mi sa che è stata una pessima scelta Perché ci sono tutte Stemini colline Aiuto Aiuto Via 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 Andiamo 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 di corsa Dobbiamo raggiungere di là La destinazione è quella Ce la possiamo fare insieme Il buon panino Insieme alla panino family Ce la può fare Non ce la può fare Non ce la può fare Ma che è sto fondale Ma non si vede niente Che Ma mi hanno tolto il fondale Mi hanno lasciato una cosa nera Che è caduto Il petrolio in acqua Che c'è tutta quella cosa lì Dai su Dopo 3.000 anni Mi stava volando il telefono Dopo 3.000 anni Di ricerche scientifiche Ce l'abbiamo fatta Sì Vai Ce l'abbiamo fatta niente Qui non ce la faremo mai Non ce la si può fare Con sto gioco Dai su E che roba Oh dai Su Su niente Dai E mettete qua Con sta macchina Basta Guardate il cielo Sta diventando notturno Perché stiamo facendo Le ore qua Su Perfetto Abbiamo raggiunto L'area 51 Ed è proprio qua Che possiamo adesso Finalmente evocare Gli alieni In realtà possiamo evocarli Dove vogliamo Però volevo mettermi In un posto A te Ma vabbè senti Macchina Non è per te però Sono già stufato Via 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 Eh dai su Ste macchine incontrollabili Ma che cosa le hanno costruite Ste macchine Che motori Ci hanno messo Guardate Abbiamo raggiunto L'ufo degli alieni E finalmente È arrivato il momento Di niente Di tornarcene a casa Non ci credo Dai Per prendere sto checkpoint Che non era neanche necessario Perché tanto l'ufo Stava di là Ok Destinazione raggiunta Io però qui sotto Ho visto tipo una tavoletta Non lo so Qui compaiono cose a casa In sto gioco Sì Abbiamo raggiunto il disco volante E adesso è arrivato il momento Di evocare Gli ufo Per farlo Dobbiamo utilizzare un cheat Che mi avete scritto Alcuni di voi Infatti nel video scorso Avevo chiesto Se vi ricordavate il cheat Per evocare gli alieni Vi avrei ringraziato nel video Avrei ringraziato il primo Però questa volta Ho deciso di ringraziare Tutti quelli che l'hanno scritto Nelle prime ore Dalla pubblicazione Il cheat si chiama Alien Invasion E me l'hanno scritto Crazy Jack Games Bene fin E infine poi Domenico Formisano Grazie mille per aver scritto Il cheat qui nei commenti Vi saluto qui dal video Ma adesso Avete il momento Di utilizzare questo cheat Andiamo qua E scriviamo Alien Invasion Sì Cioè Sì niente Dove è finito l'alieno Era spawnato l'alieno E sparito Ma non ci credo Ma no Dai Aspettate forse In quel punto lì Non funziona Proviamo a vedere Di qua Oh Sì Guardate Abbiamo invocato gli alieni Su due test wars C'è proprio qui l'alieno Che si muove Proprio qui davanti Ne mettiamo altri Possiamo mettere quanti ne vogliamo Dove è finito Me l'ha fatto spawnare Scusate Ma dov'è Eccolo qua Mi devo mettere con la testa in alto Se no me li fanno spawnare E' tipo sottoterra E chissà dove vanno a finire Guardate qua gli alieni Ma cosa fa Questo si muove pure Ma cosa vuoi da me Ma oh Se ne veniva qui da me Ma ti prendo Ma ti piglio Guardate come corre l'alieno Abbiamo invocato gli alieni Su due test wars Eccoli qua Che sono usciti fuori Dal disco volante Che sta qui sopra Bellissimo proprio Spettacolare Siamo qui infatti Nella zona dedicata agli alieni E questo è proprio Il posto più adatto Per evocarle E' il posto migliore Per far venire questi alieni Chissà Magari in un prossimo video Possiamo provare ad invocarle All'interno dell'area 51 Potremmo sapere Questi altri commenti Sono uno stupido Una roba del genere E quindi che dire Con gli alieni qui davanti Direi che potremmo finire Qual video Fatemi sapere Questi altri commenti Cosa ne pensate Spero che questo video Ti vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella Attiva Nel prossimo video Come sempre Vi auguro Buon panino a tutti